Cari amici, notizia importante, Gran Bretagna, Johnson non si isola dopo contatto col ministro Javid Positivo. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, non andrà in isolamento in seguito al contatto con il ministro della Salute. Javid risultato positivo al Covid e aderisce invece ad un programma pilota offerto dal Sistema Sanitario Nazionale che gli consente di continuare a lavorare a Dowling Street, sottoponendosi però ai test quotidiani. Quindi vedete che il ministro Johnson che domani riapre tutto in Gran Bretagna e non ci sarà neppure bisogno della mascherina, neppure al chiuso, continua a dare segnali rassicuranti. Ormai ha l'evidenza, ha capito e lo dice chiaro, e lo fa capire soprattutto con i comportamenti che la farsa sta finendo e che questo coronavirus in realtà non è più un problema sanitario dal punto di vista sanitario, ammesso che lo sia mai stato. Importante è il nuovo corso di Johnson che si ricollega anche al nuovo corso della Germania. Vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere il like se vi piacciono i contenuti proposti. Grazie e alla prossima videopillolina.